Atto di riparazione, preghiere che l'angelo insegnò ai pastorelli di Fatima. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacri leggi e dell'indifferenza con cui egli stesso viene offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria ti chiedo la conversione dei poveri peccatori.